Nuova legge elettorale anche per le elezioni regionali del Lazio. Domenica 4 marzo i cittadini saranno chiamati al rinnovo dei consigli con l'elezione di 50 rappresentanti che andranno a sedere sugli scranni della Pisana, 40 eletti con metodo proporzionale e 10 con metodo maggioritario. È garantita la rappresentanza di ogni provincia all'interno del consiglio. La scheda che verrà consegnata per le elezioni regionali sarà di colore verde. La novità principale per quanto riguarda la nuova legge elettorale è la doppia preferenza di genere ovvero la possibilità di inserire il nome di due consiglieri purché uno sia donna. Questa la scheda che verrà consegnata ai cittadini della provincia di Frosinone all'interno del seggio elettorale. Il voto può essere espresso nei seguenti modi tracciando un segno sul nome del candidato presidente o sul simbolo. In questo caso il voto non va a nessuna delle liste che lo sostengono. Tracciando un segno su una delle liste in questo caso il voto si trasferisce al candidato presidente a cui la lista è collegata tracciando un segno sia sul simbolo sul nome del candidato presidente che su una delle liste a lui collegate. Tracciando un segno sul simbolo sul nome del candidato presidente e un altro segno su una lista a lui non collegate è quindi consentito il cosiddetto voto disgiunto. L'elettore poi può indicare fino a due nominativi tra quelli candidati nella lista scelta. I nomi vanno scritti negli spazi alla destra del simbolo e se l'elettore vuole indicare due nominativi devono essere di due candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza. Il presidente eletto è membro del consiglio viene eletto consigliere anche il candidato non eletto più votato.